Se i dinosauri hanno un tempo dominato la Terra, sembrerebbe logico inciampare nelle loro ossa ovunque, ma non è così, perché? Non c'è alcuna cospirazione dietro. La verità è che la ricerca dei resti dei dinosauri è molto più complessa di quanto sembri. Sì, le ossa dei dinosauri sono reali, ne abbiamo trovate tantissime, scoperte in ogni continente, nonostante molte persone sostengano il contrario. E la distribuzione diseguale di questi tesori preistorici è solo una stranezza della natura. La fossilizzazione è un fenomeno raro, avviene solo in condizioni specifiche. Quando un dinosauro muore, inizia il viaggio verso la fossilizzazione. Il corpo ha bisogno di essere sepolto rapidamente dai sedimenti, da strati su strati, creando una sorta di pentola a pressione geologica. I minerali si insinuano nelle ossa, trasformandole in pietra. Questa ricetta unica si verifica prevalentemente sott'acqua, dove sedimenti come sabbia e fango possono avvolgere i giganti caduti. È per questo che i dinosauri morti in superficie si sono fossilizzati raramente. Ad esempio troviamo pochissimi fossili di specie che vivevano nella giungla e sulle montagne. I ricercatori rivelano che molti fossili provengono da aree vicino a laghi o fiumi. Che siano annegati prima di un'inondazione o trascinati via dalla pioggia, questi dinosauri hanno avuto fortuna nel fossilizzarsi. Questi sono i motivi per cui non scopriamo dinosauri a ogni angolo. La cruda realtà è che potremmo non rinvenire mai molte specie di dinosauri. Tutto a causa dei limiti della fossilizzazione. Circa il 71% dei dinosauri non verrà mai scoperto. Non sappiamo nemmeno quante specie abbiamo perso a causa di condizioni inadatte. Se fossimo davvero fortunati potremmo trovare fossili di dinosauri montani nei fiumi locali, ma è raro. Quindi sì, i dinosauri popolavano il globo, ma tutti i fossili che abbiamo trovato finora sono stati pura fortuna. Questo ci fa chiedere quanto vivessero i dinosauri. Ci sono miti secondo cui avevano una vita lunga quanto quella delle tartarughe. Qualcuno crede che i dinosauri vagassero per secoli per raggiungere dimensioni colossali, ma è il contrario. In realtà i dinosauri avevano vita breve. Sfortunatamente una volta che questi animali raggiungevano il culmine della riproduzione, spesso si trovavano sulla via per la fossilizzazione prima di raggiungere il loro pieno potenziale in dimensioni. Ciò che è interessante è che i cicli di vita dei dinosauri seguivano quelli degli alberi. Forse sai che è possibile determinare quanti anni ha un albero dai suoi anelli. È vero, ogni coppia di anelli chiari e scuri corrisponde a un anno di età. Come gli anelli ci parlano degli alberi, le ossa dei dinosauri ci raccontano di loro. I ricercatori esaminano fette di ossa al microscopio, analizzando i diversi tessuti per valutare i tassi di crescita. Anelli spessi indicano una crescita rapida, mentre quelli stretti indicano un ritmo più tranquillo. Nel regno animale, di solito una maggior grandezza equivale a una vita più lunga. Quindi ci si è chiesto se i grandi dinosauri vivessero davvero a lungo. Apparentemente sì. I grandi dinosauri sauropodi, simili a enormi behemoth antichi, probabilmente impiegavano circa 30-35 anni per raggiungere l'apice. Dopo godevano solo di qualche altro decennio sul palcoscenico preistorico. Per i dinosauri più piccoli, come gli agili ornitopodi, la vita era breve. Crescevano fino a dimensione completa dopo circa 4 o 5 anni di vita. Ma dopo soli 3 o 4 anni, questi mini dinosauri, a meno che non fossero estremamente fortunati, dicevano a tutti addio. Si è quindi scoperto che molti dinosauri non vivevano per centinaia di anni. La maggior parte, anche quelli colossali, raramente raggiungeva i 50 anni. È una sorpresa se li paragoniamo ai giganti di oggi, come le balenottere azzurre e gli elefanti. Questi animali hanno una durata di vita simile a quella umana. Le balenottere vivono circa 80 o 90 anni, e molti elefanti arrivano ai 60 o 70. E non sono grandi come i dinosauri. È un peccato che abbiano lasciato il nostro pianeta così presto e che non abbiamo avuto la possibilità di studiarli. Ciò che è ancora più triste è che i dinosauri erano destinati all'estinzione fin dall'inizio. Anche se una roccia cosmica casuale non avesse colpito il pianeta, i dinosauri sarebbero comunque estinti oggi. Il meteorite di Cixolob si è schiantato sul nostro pianeta 66 milioni di anni fa. Per la cronaca non ha distrutto tutti i dinosauri, solo quelli non aviari. Gli altri sono diventati uccelli. Sì, alcune di queste creature colossali sono diventate le piccole galline e i piccioni che vediamo oggi. Ecco cosa provano i lupi. Ma anche prima di ciò, la Terra stava lentamente preparando una catastrofe per loro. Recenti ricerche dimostrano che l'era precedente all'impatto dell'asteroide non era esattamente un paradiso. Era più simile a un calderone di sfide ambientali. Gli scienziati hanno esplorato i trappi del Deccan, una delle più grandi regioni vulcaniche nell'odierna India occidentale. Hanno sviluppato una tecnica innovativa per studiare il passato attraverso i vulcani, misurando le concentrazioni di zolfo nelle rocce. È così che hanno scoperto che i trappi del Deccan, eruttando milioni di chilometri cubici di roccia fusa, hanno contribuito ai cambiamenti climatici globali. Oltre 100.000 anni prima che il famigerato meteorite Cixolab colpisse, le temperature globali potrebbero essere calate di diversi gradi. Questo brusco calo fu probabilmente causato dalle emissioni di zolfo nei trappi del Deccan. E ciò a sua volta portò a condizioni climatiche sgradevoli. La Terra ha finito per sperimentare inverni vulcanici. Questo ha reso la vita estremamente difficile per la flora e la fauna e ha preparato il terreno per l'estinzione finale dei dinosauri. Quindi anche se non ci fosse stato l'asteroide, i dinosauri non sarebbero sopravvissuti a lungo. Da molto tempo gli scienziati discutono se a causare l'estinzione dei dinosauri sia stato l'asteroide o l'attività vulcanica. Finalmente la tecnologia sta avanzando e possiamo utilizzarla per rispondere a questa domanda. Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da ricercatori offre la sua prospettiva. Utilizzando oltre 100 processori alimentati con dati geologici e climatici, l'IA ha esplorato i registri fossili e oltre 300.000 scenari possibili per scoprire la verità. Secondo la macchina, la teoria vulcanica è molto più plausibile. Ha comunicato agli scienziati che i cambiamenti climatici necessari per un'estinzione di massa erano probabilmente causati solo dai trappi del Deccan, anche senza l'impatto dell'asteroide. Le eruzioni vulcaniche coincisero con il confine Cretacee o Paleogene, iniziando 300.000 anni prima dell'asteroide, e continuarono per un periodo prolungato. Questo ha sollevato alcune domande riguardo al giudizio umano rispetto a quello dell'IA. Alcuni scienziati hanno espresso scetticismo e parlato del possibile bias dell'IA. Tuttavia i ricercatori che hanno guidato il progetto sono entusiasti del loro metodo e il suo potenziale nell'esplorare altri periodi della storia della Terra. È probabile però che ci vorrà ancora del tempo affinché gli umani riescano a fidarsi dell'IA. Abbiamo già accennato al fatto che i dinosauri non volatili sopravvissero a questo evento apocalittico. Per qualche motivo né i vulcani né un asteroide riuscirono a distruggere tutto sul pianeta. Molti animali sopravvissero, evolvendosi in mammiferi, e molte piante continuarono a prosperare. Le piante superarono questo evento persino meglio degli animali, una catastrofe che ha fatto scomparire circa il 75% delle specie terrestri senza contare tutte le singole perdite. Tuttavia le meraviglie botaniche sono sopravvissute. Circa il 78% delle nostre specie vegetali deve la propria esistenza ai suoi tenaci e antenati. Purtroppo le piante non si trasformano in fossili tanto facilmente quanto gli animali, e sappiamo già che questo processo non è rapido e comune. Quindi i ricercatori hanno dovuto ricorrere agli alberi evolutivi. Hanno analizzato fino a 73.000 specie vegetali sopravvissute. I risultati hanno rivelato una narrativa straordinaria di evoluzione e predominio. Si è scoperto che, dopo la grande estinzione, queste piante astute hanno colto l'opportunità, proprio come i mammiferi che emersero dopo l'era dei dinosauri. Ordini importanti come quelli della menta, della magnolia e delle orchidee non solo coesistevano con i dinosauri, ma sono fioriti oltre l'estinzione. Il segreto del loro successo risiede nella capacità di adattarsi all'impollinazione. Non importava se venivano impollinati dal vento, dagli insetti o da qualsiasi altro fattore. Sfruttavano risorse da qualsiasi fonte disponibile. Grazie a questa eccezionale adattabilità che gli scienziati definiscono Flower Power, il loro retaggio vive e prospera ancora oggi.